Siamo con Eugenio Scalfari, storico direttore e fondatore del quotidiano La Repubblica, nonché cofondatore nel 1955 con Enrico Benedetti del settimanale L'Espresso. Scalfari è stato anche direttore dell'Espresso dal 1962 al 1968. Prima di tutto, direttore, grazie per averci concesso questa breve intervista. Quale particolare merito Eugenio Scalfari sente di poter riconoscere a se stesso nell'aver contribuito a cambiare o perlomeno a condizionare rispetto al passato il modo di fare giornalismo in Italia? Quando lasciai la direzione di Repubblica, a me sembra ieri, ma sono passati già 13 anni, 12 diciamo, ricevetti tante lettere, come era ovvio, dai lettori. Tra le quali una, di una famiglia, era firmata dal padre e madre, che chiedevano di vedermi perché venivano con loro i figli e i nipoti. Ed era scritta con tanto affetto che io accettai perché di solito rifiutavo tutte queste richieste di appuntamento. Allora dopo qualche giorno arrivarono ed erano tre generazioni perché i nipoti avevano tutti dai 16 ai 18 anni, i vecchi ne avevano una settantina. E allora mi dissero, il padre prese la parola per tutti, mi disse, io volevo vederla con tutti quanti i miei intorno per dirle che i vostri due giornali, l'Espresso prima e Repubblica dopo, hanno educato all'impegno civile e culturale tre generazioni. Ecco, allora il merito è questo. Se l'abbiamo educata è bene. Oggi alla sua lezione magistralis ci saranno sicuramente tanti giovani e questa non è certo una sorpresa. Probabilmente vedremo anche tanti ragazzi al prossimo Waffa Day, questa volta contro la casta dei giornalisti. Le chiedo se può comprendere o addirittura giustificare la sfiducia di alcuni di questi ragazzi e di una parte dell'opinione pubblica nei confronti della stampa italiana. Beh, motivi per criticare la stampa italiana ce ne sono. Direi la stampa non solo italiana, la stampa in generale. Ci sono motivi, quindi può essere giustificato. Non so se un giorno di protesta, ma però 25 aprile è una data che si potrebbe celebrare, mi pare, diversamente. Conosco la storia, molto simpatica, di un giovane Scalfari che in una calda estate romana si presenta alla corte di Mario Pannunzio, direttore, allora direttore del settimanale Il Mondo, in abbigliamento da mare. Da lì poi è cominciato tutto. Oggi cosa raccomanderebbe a un giovane intenzionato a intraprendere la carriera giornalistica? Beh, raccomanderei di fare bene alle scuole di giornalismo che adesso esistono. Qui a Perugia ce n'è una Florida efficiente e che prima, ai tempi miei, quando ero giovane io, non esistevano. Per molti anni hanno cominciato ad essere, ad esistere forse da una ventina, anche più, forse da una trentina d'anni, ma ad essere riconosciute effettivamente dai giornali, direi non più di 15 anni. Adesso è diventato un passaggio obbligato, senza il quale non si entra. Lei è da sempre stato politicamente impegnato, da direttore di giornale, ma anche in Parlamento, dove è stato eletto deputato nelle fila del Partito Socialista. Ancora prima, però, è stato anche tra i fondatori del Partito Radicale, quella che si proponeva come una terza forza laica, liberale, riformista, nell'Italia degli anni 50. Cos'è rimasto dei valori di quell'operazione che, peraltro, fallì clamorosamente sul piano elettorale? Quei valori sono ancora attuali, purtroppo, devo dire, perché i valori non purtroppo, ma lo sforzo per affermarli e continuare a farli circolare nella società è uno sforzo che non solo non si è attenuato, ma chiede addirittura di essere rafforzato. Quindi, e per questo dico purtroppo, perché dovrebbero essere entrati nel patrimonio, come si dice, con un brutto aggettivo che non mi piace molto, ma condiviso. Ormai si fa molto abuso del condiviso. Ma certamente quelli sono valori fondanti che dovrebbero essere condivisi e non lo sono. I suoi giornali si sono sempre contraddistinti per un particolare genere giornalistico, l'inchiesta. Lei era direttore dell'Espresso quando nel 1967 vennero scoperchiati gli intrighi di una calda estate di tre anni prima, mi riferisco al caso Sifar de Lorenzo e al tentativo di golpe. La pensa ancora come 41 anni fa, nel senso, abbiamo davvero rischiato grosso e per grosso si intende il sovvertimento dell'ordine democratico vigente? Questa è una questione che è sempre stata molto controversa. Certamente quando un gruppo di persone molto influenti, che profittarono anche di un momento di debolezza mentale dell'allora capo dello Stato, che poi infatti seguì ad una vera e propria malattia, che lo portò alle dimissioni. un gruppo di persone influenti, diciamo, medita e organizza un sovvertimento istituzionale con l'intenzione di usarlo come arma di pressione più che di farlo. E questo è un deterioramento della regola democratica molto grave, che si è ripetuto poi infinite volte sotto altre forme, intanto con altri tentativi golpisti veri e propri, e poi con la loggia P2 e con tutto quello che ancora esiste, diciamo, di poteri paralleli o deviati, dove non si capisce a che cosa siano paralleli e in che senso e in che modo siano deviati, ma il fatto sta che questo esiste ancora. Grazie mille direttore.